Intanto sono molto contento di dare il benvenuto su RBE a Jessica Di Martino e Davide Pepe qui con me. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Francesco, grazie. Abbiamo anche un altro ospite che forse è nascosto, George se non sbaglio, che però giustamente sta all'ombra perché insomma il sole ha fatto capolino. Noi siamo molto contenti comunque di questo sole che ci permette di raccontare anche con più luminosità questa 48esima edizione di Artigianato Pinerolo. Allora intanto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una iniziativa, di una rassegna, voi mi correggerete subito se dirò delle stupidaggini, che si chiama Airascopoli, il nuovo comics del Pinerolese, leggo. Cominciamo da qui, intanto poco fa quando ci siamo incontrati fuori dalla nostra diretta ho detto voi siete dei pazzi perché secondo me questa è una sfida bellissima, molto interessante, quella di portare ad Airasca un appuntamento anche qui molto denso che mette insieme i comics, mette insieme tutto il mondo diciamo anche della cultura pop. Della cultura pop. Grazie Davide per questo intervento molto molto opportuno perché insomma ormai possiamo dire che la nostra, il nostro tempo è assolutamente imbevuto di cultura pop e quindi dare dignità alla cultura pop attraverso una rassegna diciamo è cosa buona e giusta. Io Jessica comincerei con te intanto. Come mai è venuta l'idea di organizzare Airascopoli? Raccontaci un po'. Allora innanzitutto volevamo dare un bacino d'utenza alpinerolese con intrattenimento, gioco, comics e tutto quello che un po' appunto diceva Davide la cultura pop quindi intrattenimento puro dove passare due giorni a fare cose belle da un VR a un'esperienza Lego a un'esperienza di scrittura, lettura, conferenze, talk e quindi creare veramente un'offerta sul bacino del pinerolese a partire da Airasca. E ci siamo dati una mano grazie a tutto l'indotto del pinerolese. Intanto diciamo subito le date perché insomma ovviamente stiamo parlando di un evento ma dobbiamo collocarlo nel tempo perché altrimenti gli interessati insomma non sanno quando. Il 21 e il 22 settembre presso il centro polifunzionale Brussino in via stazione 31 ad Airasca. Tutto corretto? Corretto. Saremo lì dalle 10 alle 22 due giorni interi. Giochi, laboratori, esibizioni musicali, incontri con autori di graphic novel, di fumetto. insomma quelli come me che sono boomer direbbero questo è come dire un tripudio per i nerd diciamo, dei nerd. Esatto perché la cultura pop ormai è una religione. Esattamente. E va festeggiata, va creato un evento per festeggiare quello che ormai per tanti è lobby, fuori dal lavoro, fuori da quando uno si vuole sfogare. Quindi un evento del genere costruito con varie personalità del Pinerolese perché siamo ad Airasca il 21 e il 22 settembre ma in realtà all'interno di questo evento ci saranno dei grandi nomi come centro giochi educativo, roba da elfi. La quarta era Pio Sasco. E ci sarà un evento nell'evento perché ci sarà una delle esposizioni più grandi di Lego sul territorio. Infatti abbiamo coinvolto Torino Bricks. Esatto. Torino Bricks che è un'associazione di appassionati del mondo Lego che detto così può sembrare riduttivo, no? Vado là solo perché mi piacciono i Lego. Ma no, ci sono Lego che suonano, con i Lego fanno istruzione. Mi fai dire che esiste anche una religione dei Lego, diciamo. È la religione della religione, è la setta dentro la religione. E quindi infatti dentro l'evento loro vivono a sé stante, avranno i loro giochi, avranno i loro quiz, avranno i loro cerca tesoro, di tutto all'interno di quegli ambienti, i loro contest. Quindi in realtà era partito da una piccola idea, no? Di appassionati della cultura pop, chi dei Lego, perché cultura pop è enorme, no? Chi dei Lego, chi dei fumetti, chi dei giochi da tavoli. Infatti anche i Robi da Tavoli sono un altro gruppo principale che ha dato lo spunto per partire per questo evento. Loro sono un gruppo molto simpatico che c'è anche su Instagram, i Robi da Tavolo, che promuovono i giochi da tavolo, che stanno andando tantissimo ultimamente. E da una loro scintilla è partito tutto. Torino Bricks si è messo con noi, roba da elfi, 100 giochi educativi, Quarta Era ci stanno sponsorizzando, altri gruppi si sono collegati. Ed è cosa uscito? Non la classica fiera di paese con dei tavolini per giocare e due stand per comprare, ma due giorni dove tu entri e ti puoi intrattenere come in un parco giochi dalla mattina alla sera. Vorrei insistere su un elemento, Jessica. Davide diceva che ha citato tutta una serie di partner che entrano dentro l'organizzazione di questo appuntamento che va in scena tra due settimane ad Ayraska. E quindi, insomma, ci piace sempre, tutte le volte che possiamo sottolineare questo elemento, Jessica, l'elemento della rete. È necessario mettersi insieme con altri partner per realizzare appuntamenti che abbiano un senso e che abbiano un senso molto ampio. Insomma, è stato un lavoro faticoso costruire questa rete o, come dire, avete trovato un'autostrada, diciamo, di disponibilità. Allora, è partita con una partita al tavolo, con i robbi da tavolo. E così, facciamo qualcosa da Ayraska? Bene. Io conosco questa persona, io conosco questa persona, in realtà è stato molto più semplice del previsto. Facendo qualche domanda siamo arrivati addirittura a avere l'appoggio di Sentieri Tolkeniani, che sarà il nostro padrino partner, anche lui. E da lì, un passo dietro l'altro, ci siamo dati tutti una mano, col passaparola e con la voglia soprattutto di collaborare davvero in maniera spontanea e volontaria. Ognuno ci ha messo del proprio e non c'è stata nessuna richiesta neanche di introito da parte di nessuno. Veramente è stata una collaborazione di cuore da parte di tutti. C'è proprio voglia sul territorio di creare comunità e di creare un momento di condivisione pura di 48 ore. E questo è un importante segnale anche quello di mettersi completamente a disposizione, no? Forse indica anche il fatto che un evento del genere ce ne sia bisogno, ce ne sia la voglia che si crei una situazione del genere qua nel Pinerolese. Perché se uno non ha voglia di aspettare o non può andare a Luca Comics o non può aspettare per un anno il Torino Comics, sa che almeno ha un altro momento più vicino, più intimo in cui poter avere contatto con quella che è la cultura pop. Leggo tra l'altro che è bella la declinazione che avete fatto dell'obiettivo che avete, che è quello di promuovere le eccellenze artistiche del territorio e i legami sociali attraverso giochi, musica e laboratori. Io sono un romantico e l'espressione legami sociali mi fa battere il cuore, nel senso che abbiamo assolutamente bisogno di rinsaldarli quei legami perché c'è la tendenza a sfilacciarli. Per cui questo è un momento di altissima socialità, credo. Sì, ma un esempio molto importante, è stato veramente bello questo, quando abbiamo provato a coinvolgere gli artisti del mondo comics, i ragazzi, all'inizio li abbiamo visti un attimino con uno sguardo strano ai nostri confronti, perché si aspettavano qualcosa che noi da novizi non sapevamo neanche cosa fosse. In realtà loro avevano paura dell'approccio classico che ormai i comics stanno prendendo, cioè di sfruttamento o comunque di una loro oggettificazione. Invece noi abbiamo detto, no, 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 fermi tutti, noi stiamo dando gli spazi per portare qualcosa, non vogliamo niente in cambio da voi. Ecco che di là si è creata una dinamica molto diversa. Hanno voluto piano piano incominciare a collaborare più artisti perché hanno detto, ah, ma quindi possiamo venire a casa nostra, possiamo fare come ci piacerebbe a noi, possiamo esporre i nostri lavori, possiamo farci conoscere nella maniera nostra, quindi non è che ci prendete come strumentini, ci mettete là, è là, questo è un esempio, è un esempio. È stato veramente un modo di dirgli esprimetevi a pieno, lasciate andare quello che siete e trovate magari qualcun altro con cui esprimere questa cosa. La vostra artisticità, la vostra professionalità, la vostra passione in generale. E quindi da qui il legame sociale, che noi crediamo che nasca già dai banchi di scuola, dai piccolini, tant'è che l'evento è dedicato sia ai piccolissimi che si può arrivare fino in età adulta, proprio perché tutti quanti hanno bisogno di un momento di ricreazione, di legame culturale e sociale. Festival ludico dedicato alla cultura pop per giovani e famiglie, insomma io penso che la proposta diciamo alla base ha come dire una sostanza molto forte, diciamo è molto concreta e il tempo vola, volevo chiedervi insomma se avete voglia di farci qualche nome diciamo almeno tra gli ospiti che avete o di qualche momento che volete come dire raccontare in maniera più particolare oppure semplicemente dire tra due settimane siamo ad Airasca, venite e immergetevi dentro Airascopoli. Che cosa mi raccontate su questo? Domanda difficilissima, figli e figliastri, ma non è questo l'intento ovviamente. È difficile perché le collaborazioni sono a centinaia, solo dello staff interno nei due giorni per accogliere tutto il pubblico ci saranno circa 200 persone, più familiari vari, quindi arriviamo, ci saranno 400 persone all'interno solo ad attendere il pubblico per offrire qualcosa, però si può citare ad esempio l'ambito musicale, sabato sarà una giornata di musica e ci sarà il magico mondo di Laura tutto il pomeriggio con canzoni del mondo Disney, del mondo anime, ma non finisce là perché la sera poi ci saranno i Gremlins per chi arriva dall'amore della musica degli anni Ottanta, dei film cult del periodo, proporranno i grandi cult di quel tempo. Senti anche un po' dei nostalgici. È un pochino sicciamo, anche perché la cultura pop parte dagli anni Ottanta e poi e prende tutti. Domenica invece Contest Cosplay, quindi sono ancora aperte le iscrizioni per chi ancora avesse piacere di partecipare, quindi sui nostri social, Instagram e Facebook, ci trovate come Airescopoli e appunto possono, è ancora tutto aperto e poi che altro? Ci sarà da mangiare, ci sarà da vedere cose, ci sarà il contatto con la natura, ci saranno i poni domenica per chi vorrà conoscere un po' il mondo naturale, la falconeria con eventi di eventi, insomma. Un paio di youtuber importanti del quale però non vi facciamo spoiler in questo momento. I youtuber non sono anni Ottanta però, come mai? Perché siete al passo con i tempi, diciamolo pure, no? Siete assolutamente al passo con i tempi. E allora, tutto aperto, i social, cercate Airescopoli sui social per iscrivervi anche ai Contest. Tra due settimane, 21 e 22 settembre, Airescopoli, ad Aireschi, intanto Jessica Di Martino, Davide Pepe, grazie davvero per averci raccontato questo appuntamento, noi di RBA ci saremo e racconteremo in qualche modo anche questo appuntamento. Non abbiamo detto che ci sono anche dei, diciamo, anche dei talk, diciamo, con alcuni autori, per cui questo però lo racconteremo anche meglio, diciamo, anche a cavallo della data. Intanto grazie per essere stati qui con noi a RBA, allora buona Airescopoli e buon artigianato anche a voi. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo. E allora, intanto continua la nostra diretta.